Nel modo di pensare alla politica, nel nostro costo abituale, c'è sempre quello di guardarsi intorno e adottare quell'opportunismo che non è l'opportunismo di Cavour ma quello di cui parlava Enrico Cesnetto, cioè di prendere una posizione politica che chiunque vinca tutti i ritrovi dalla parte del vincitore e questo è all'origine di quasi tutti i nostri guai perché quando non c'è una parte che vince e una parte che perde il mondo della responsabilità si sperde, si sperde per rivoli e quindi si può fare il debito pubblico più grande d'Europa senza che nessuno se ne accorga perché sostanzialmente tutti sono complici. Grazie